Da giugno, per la quinta estate consecutiva, tornerà la pedonalizzazione di Viale Trieste. La novità è che sarà pure ampliata. Dal comune di Pesaro trappela infatti la decisione che la passeggiata pedonale verrà allargata sul lato di Ponente fino all'intersezione fra Via Paterni e Viale Trieste, includendo dunque anche alcuni locali rimasti finora nella zona traffico limitato. Fino allo scorso anno l'era pedonale si interroppeva infatti in Via Pola. Ora arriverà ad includere anche il cantiere di ricostruzione dell'Hotel Garden che dal 2025 diventerà un boutique hotel da 32 suite. Proseguendo sulla zona di Ponente sarà confermato il Luna Park nell'ex area sportiva di Villa Marina e pochi metri più avanti il parcheggio gratuito darà respiro alla sosta. Non cambia invece il lato meridionale dell'area pedonale che sarà compreso fra Via Lezzara e Via Ninchi. L'arredo urbano previsto in Viale sarà invece all'insegna del Green con operatori di Aspes al lavoro per tagli, sistemazioni, manutenzioni e potature volte a pensare una sorta di città giardino. Salvo controordini la pedonalizzazione di Viale Trieste sarà attiva dal 2 di giugno.